Non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte del sindaco di Praia Mare e non ne capiamo il motivo. Per l'ennesima volta chiediamo al primo cittadino Antonio Praticoso la sua amministrazione e intenzione di censire gli alberi monumentali presenti nella nostra cittadina. È la domanda che Italia Nostra rivolge attraverso la nostra emittente al sindaco della città dell'Isola Dino. Da quanto spiegatoci dai componenti dell'associazione ambientalista sono mesi che si cerca di costruire un dialogo con l'esecutivo ma finora non ci sono state risposte. Non capiamo questo silenzio dicono da Italia Nostra abbiamo solo chiesto l'Uni sul censimento degli alberi monumentali. È il febbraio del 2015 quando l'associazione raccoglie l'appello del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria a collaborare al censimento delle piante monumentali. Di cosa si tratta? Riguarda la segnalazione di tutti quegli alberi che per le loro caratteristiche vegetali e storiche possono rientrare in un programma di tutela, conservazione e valorizzazione da parte del Corpo Forestale dello Stato. Ad esempio per un albero che rientra nella lista la potatura dovrebbe essere affidata a personale qualificato. Per l'associazione sono tre i punti di Praia a mare che conservano alberi monumentali, i platani del Viale della Libertà, quelli intorno al Monumento dei Caduti del 1927 visto il loro alto valore storico. Infatti per ogni soldato di Praia morto nella Grande Guerra fu piantato un platano e il grande pioppo di Via Turati che risale al 1850. Abbiamo provato a contattare il sindaco Antonio Praticoma per motivi istituzionali, era fuori sede e pertanto non ha potuto fornire nessuna risposta.